il futuro del motor sport al di là dell'ibrido che già è presente anche se non tanto conosciuto e dell'inizio della formula e che è agli albori lei come vede il futuro della formula 1 nell'immediato intendo non nei prossimi nei prossimi dieci anni diciamo e lo sviluppo delle competizioni elettriche quindi come poi questo si rifletterà sulle macchine che guidiamo tutti i giorni quanto passerà più o meno secondo lei prima che per forza di cose tutte le sportive dovranno essere ibride il fatto che siano ibride secondo me ci fra poco sarà così mamma la formula 1 non è meno affascinante di quanto non fosse prima se manca un pochettino d'appire per altre ragioni non per il fatto che è ibrido lo spettatore comune non lo sa nemmeno che in compenso recupera energia svolge anche da questo punto di vista quello che sempre fatto cioè l'essere di stimolo per soluzioni nuove e quindi io sono convinto che anche le vetture per per le vetture di indianapolis fra non molto potranno essere libere le vetture americane le vetture per per gli ovali americani ma anche per la nascar e lì secondo me l'ibridazione il recupero d'energia secondo me nel giro di dieci anni faccio fatica immaginare che ci siano competizioni dove non si recuperi l'energia e questo sarà solo un bene è dobbiamo andarci il nostro pianeta in cui come adesso non è sostenibile come adesso non è sostenibile dovrà cambiare in qualche modo nello stesso tempo io credo che non potrà impedirmi di correre con una vettura a emettendo l'energia carbonica se con quei soldi della benzina finanzio dei sistemi diretti di recupero dell'energia carbonica dovrebbe essere quella ragione però certamente dovremmo arrivare a un giorno presto non molto tardi in cui il nostro mondo sarà meno inquinante e anche motorsport farà la sua parte le vetture altre prestazioni faranno la loro parte non potrà che essere così dovremmo andarci ma non immagino che la la vettura per spostarsi per andare a lavorare in un futuro prossimo potrà essere elettrica magari anche autonoma magari anche andare se deve andare da parma a milano ma perché deve andare con l'automobile va all'interno ma spero che ci sia altra velocità ci arriva anche prima mi stanco leggo non mi stanco leggo il giornale però faccio fatica a pensare che venga proibito di usare la motocicletta a quelli che sabato vanno in motocicletta che non ci vanno per andare da parma a bardi o da parma a lerici ma ci vanno per il piacere di guidare la motocicletta quelli lì secondo me dovranno potersi andare con una motocicletta non elettrica perché sennò con delle batterie difficile però dovranno pagare il costo dell'infinamento dell'assorbimento dell'energia carbonica che mettono però è un discorso vecchio io questo problema l'ho sentito come per certi versi come senso di colpa da molto tempo per il mestiere che faccio però verso il 1990 si scriveva verso il 2010 sarà più il petrolio usato del petrolio che viene scoperto quindi i prezzi schizzeranno si comincerà anche a diminuire il consumo di benzina la realtà è che adesso poi come fai un foro viene fuori petrolio insomma quindi secondo me non sarà la mancanza di petrolio che cambierà il nostro piede che migliorerà il nostro piede mineta saremmo noi che dovremmo farcene carico d'altra parte nel 1990 c'era un bel libro c'è un bel libro sulla mobilità del futuro di allora dove già si pensava a questi problemi e c'era il premio Nobel ruby diceva ci sono tanti prezzi di vedere il costo del petrolio ce n'è uno che è quello il costo di estrazione quello che paghi al paese dove 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 ci sono i giacimenti il trasporto la raffinazione la vendita e le tasse e poi c'è quello che dovresti pagare per riparare i danni che fai che il costo dovrebbe essere tre volte quello che paghi adesso la benzina come dire la benzina dovrebbe costare quattro euro e mezzo però c'era l'istituto di ecologia di Heidelberg che dicevano quattro sono pochi dovrebbero essere forse quattro quattro volte e mezzo quindi essere intorno ai sei euro o qualcosa del genere il prezzo della benzina secondo io l'impressione che si andrà a finire lì cioè vuoi andare in motocicletta alerici vai e paghi poi dopo vuoi andare a fare qualche giro in otto domando ora non ci vai diventeremo sempre più bravi ad andarci consumando meno perché non potremmo fare diversamente mi piacerebbe che non ci fosse questo problema questo problema c'è non possiamo pensare di andare nello stesso tempo dobbiamo quale che sia il sistema di alimentazione se sarà elettrica o a benzina dovremmo imparare a fare macchine più leggere a fare macchine che consumino meno che consumino meno perché perché hanno una penetrazione maggiore e lì mentre in passato lavoravamo sulla galleria vento per vetture commerciali soltanto per dare più carico per avere più performanti adesso vengono fatti per avere meno resistenza adesso è cambiato cambiato assolutamente assolutamente e completamente questo mondo c'è nello stesso tempo intanto che facciamo l'energia elettrica sarà una bella cosa che cominciamo a imparare anche come facciamo l'energia elettrica perché recentemente è apparso sul corriere uno studio è stato ripreso una ricerca fatta in germania quindi il paese non sospetto confrontava una mercede 220 con una testa non mi ricordo il modello e diceva per come è fatta l'energia adesso in germania nell'utilizzo medio di non so quanti chilometri l'anno sui cinque anni inquina ancora meno una mercede di una testa però dovremmo imparare a fare le energie elettriche in un altro modo e questa è un'altra cosa dovremmo farla in un altro modo però allora una domanda mi viene spontanea se è un po prematuro parlare di macchina elettrica come assolutamente più rispettosa dell'ambiente se la benzina non ci manca ancora il petrolio non ci manca ancora perché stiamo correndo così tanto verso quella parte lì piuttosto che pensare un po più all'ibrido magari no ci sarebbe da fare tutto e da affrontare tutti i pezzi insieme certamente non ho l'idea che stiamo affrontando l'idea di come fare energia elettrica però anche qui tutto sommato il 30 per cento della benzina dell'energia elettrica italiana 25 30 per cento è ininnovabile se noi riuscissimo però non dimentichiamo che l'energia elettrica un conto c'è tutto il resto dell'industria che andrebbe fatta perché perché non c'è solo come facciamo l'energia elettrica adesso per dire tutto il riscaldamento non è detto che sia tutto il riscaldamento è un'altra cosa anche lì lo facciamo tutto inquinando 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 la grande però insomma a essere vecchi qualche volta ti dice che che esiste un modo di vivere anche diverso che comporta delle abitudini diverse però è possibile io sono vissuto in un periodo ad emissione molto vicino lo zero quando avevo 11 12 anni a casa mia c'era una sola stufa veniva chiamata la stufa economica perché aveva tutti i cerchietti di ghisa e si toglievano in modo tale da mettere la pentola a cuocere l'acqua e c'era di fianco anche un contenitore con l'acqua calda e che utilizzavi solo quella per fare l'acqua calda scaldavi solo quella spegnevi alla sera e poi le braccia servivano si mettevano nel prete per riscaldare le lenzuola della tua stanza non c'erano neanche i vetri doppi come adesso ho già vissuto con dei gran raffreddori ma sono andati tutti io come tutti gli altri senza grossi problemi forse dovremmo non dico di arrivare a quello ma ma però potremmo anche vivere in un modo anche molto 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 in po dico non molto incredibilmente più sobri di quanto vogliamo adesso dal punto di vista dell'inquinamento e poi magari vediamo come facciamo l'energia elettrica mandami pure a milano col treno elettrico però poi se la domenica fammi pagare quello che costa ma se la domenica voglio andare a fare tre giri in pisto voglio andare a girare adesso me lo fare insomma sarà un altro mondo di di strada c'è da fare da fare da morire perché ripeto non basta fare in un modo diverso energia elettrica devi fare in modo diverso energia elettrica che fai più il pezzo che ti manca per fare tutta la mobilità elettrica perché adesso pensate voi se dovessimo in questo momento fare tutte le macchine elettriche non c'è modo di farla in un modo diverso lo puoi fare con la benzina soltanto allora allora è peggio l'affrontarlo solo dal punto di vista della della vettura è incredibilmente assolutamente mio ma se non si comincia non si comincia mai sfortunatamente cominciamo solo da una parte non affrontiamo il problema nel suo insieme non lo spuntiamo in un modo omogeneo poi ce ne stiamo occupando soltanto per la mobilità privata ma poi già soltanto l'inquinamento di una nave da crociera per dire non è incredibilmente maggiore rispetto a non so quante macchine private è vero però anche lì si dovrà pensare come faranno quelli a farli in un modo diverso insomma c'è da pensare ma però ripeto se in questo momento tutte le macchine forse elettriche ci vuole incredibile bisognerebbe raddoppiare quasi non ma moltiplicare di molto di un bel coefficiente la quantità elettrica che si protegge adesso quindi non si tratta di di fare di pensare dal 30 al 40 al 100 per cento di energie rinnovabili di farla rinnovabile energie elettriche che facciamo ora dobbiamo capare tutta quella che ci servirà per la mobilità c'è una rivoluzione da fare che magari non sarà neanche magari dovremmo fare l'idrogeno che diventa energia elettrica a porto della vettura ma il problema come facciamo l'idrogeno nello stesso tempo c'è una italiana un ingegnere italiano bravissimo la grazia vittadini che è responsabile della ricerca in airbus e in un'intervista dell'anno scorso sul Corriere della Sera ma voi state lavorando ad un nuovo concorso ad un aereo supersonico e dice no noi stiamo lavorando ad un nuovo aereo elettrico autonome connesso che poi non è proprio tutto così non ha detto che sia con le batterie quindi non potrà che essere con l'idrogeno o qualcosa del genere insomma c'è un mondo tutti si stanno preoccupando del dopodomani forse ci vorrebbe un movimento che si occupasse anche di fare come facciamo l'energia del dopodomani ecco però 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 non possiamo secondo me pensare dal momento che è troppo complesso dal momento che bisogna intervenire sotto due punti di vista aspettiamo di affrontarlo quando avremo fatto l'energia elettrica pulita insomma secondo me bisogna cominciare ad affrontarlo questo non vale niente però mi fa piacere se c'è anche lei porca miseria questo che me lo guardo subito tra l'altro avrei pazienti lovis stasera comincio subito grazie 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 ho messo di non prendere il mio fatto dietro l'ultimo avro messo grazie 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 grazie